Il nostro progetto ha il titolo l'assistenza di prossimità, il nursing in cure domiciliari e tende ad evidenziare quella che è appunto l'assistenza di prossimità erogata dalla nostra unità operativa. In realtà è la descrizione di un progetto che risale a circa 20 anni fa e che è in continua evoluzione in base a quelle che sono le esigenze dettate proprio dal territorio. È stato preso come riferimento appunto 20 anni fa la città di Melfi, proprio questa città e a seguito del suo esempio virtuoso è stato esteso su tutta la provincia di Potenza. Si erogano quelle che possono essere le cure palliative specialistiche anche oltre a quelle che sono le cure domiciliari standard con la finalità di generalizzazione dell'utente nel proprio nucleo familiare. Una delle peculiarità della nostra unità operativa è l'imbiandistica vascolare eco guidata domiciliare che rappresenta una vera e propria best practice con un trend di crescita sostanzialmente positivo nel corso degli anni e noi portiamo questa nostra esperienza dell'imbiandistica vascolare anche a tutta la rete assistenziale territoriale operando quindi nell'RSA, nelle lungodeggenze e negli hospice della provincia di Potenza e abbiamo la possibilità da qualche anno di posizionare i cateteri venestri centrali anche in ambulatori, ambulatori riferiti al plesso spelerio di Vinosa e al poliambulatorio di Lago Negro.